No, 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 Draghi è persona assolutamente stimabile. Il problema è chi lo sostiene per fare cosa? Cioè, Draghi sostenuto dalla sinistra per fare la patrimoniale sulle case, sui conti correnti? No, grazie. L'Italia ha bisogno di taglio di tasse di burocrazia, non di più tasse di burocrazia. E la sinistra purtroppo ha nel suo DNA il più tasse e più burocrazia, quindi non è una questione di nomi. Io spero che entrosera gli italiani però abbiano la parola fine su questa triste vicenda. O c'è una riedizione del governo Conte, Correnzi e noi da domani siamo in Parlamento a portare avanti le nostre battaglie, oppure la parola torna ai cittadini. Altre scorciatoie non ne vedo adesso.